Il giorno e la storia Oggi è il 10 maggio 1940 I tedeschi iniziano l'invasione del Belgio e dei Paesi Bassi 1497 Vespucci salpa da Cadice per il suo primo viaggio nel Nuovo Mondo 1981 François Mitterrand è eletto presidente della Repubblica Francese Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana Oggi vi presento uno dei più importanti teologi protestanti Karl Barth Grazie a tutti Grazie a tutti